Siamo qua con la dottoressa Romagnoli Marina, dermatologa, che ci spiega qualcosa in più su Viscoderm. Buongiorno a tutti, stiamo parlando di una campagna che io sposo con molto entusiasmo in quanto dermatologa perché è volta a medici del settore e tratta della prevenzione, cura e mantenimento dei risultati per quello che riguarda la salute della cute, quindi la vita cutanea ed è anche un monito per i pazienti per pensare alla salute e difendere la vita della loro pelle. Il programma si articola in diverse sessioni nelle quali si può utilizzare un prodotto a base di acido ialuronico molto innovativo che ci permette la correzione di rughe fino ad oggi abbastanza difficili da correggere e cioè quelle intorno agli occhi e quelle intorno alla bocca. Sono rughe dinamiche e questo prodotto ci permette per la sua malleabilità di correggerle nella maniera ottimale senza o perlomeno limitando con una corretta tecnica di infiltrazione gli eventi avversi. Per quello che riguarda invece il programma di prevenzione e di mantenimento utilizziamo un acido ialuronico addizionato con aminoacidi, sali minerali e antissidanti in particolar modo l'acido lipoico che studi scientifici pubblicati hanno dimostrato essere in grado di aumentare le difese della pelle nei confronti delle azirezioni degli ossidanti esterni in primo luogo dei raggi solari. Altra cosa importante soprattutto nei processi di cronoaging quindi di quei processi di invecchiamento dell'acute legati all'età laddove abbiamo un depauperamento importante di fibre collagene e di fibre elastiche l'utilizzo di acido ialuronico naturale che anche in questo caso da studi scientifici pubblicati si è dimostrato essere in grado di aumentare la produzione di collagene e quindi di aumentare l'elasticità, l'idratazione e la compattezza di una pelle che nell'invecchiamento tende a essere più rilassata e più disidratata. Grazie mille per le telecamere di Beauty Advisor, salutiamo, grazie a tutti.